Pinocchio di Carlo Collodi Capitolo trentesimo Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei Balocchi. Com'è naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti, e la fata gli disse, vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte, hai capito? Fra un'ora prometto di essere bello e ritornato, replicò il burattino. Bada, Pinocchio, i ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere. Ma io non sono come gli altri, io quando dico una cosa la mantengo. Vedremo, caso poi tu disubbidissi, tanto peggio per te. Perché? Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro, vanno sempre incontro a qualche disgrazia. Io l'ho provato, disse Pinocchio, ma ora non ci ricasco più. Vedremo se dici il vero. Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona fata, che era per lui una specie di mamma, e cantando e ballando uscì fuori della porta di casa. In poco più d'un'ora, tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito e di gran cuore, altri da principio si fecero un po' pregare. Ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire, verremo anche noi per farti piacere. Ora, bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo, ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo, per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale e quale come il Lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più vericchino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada in vano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là, finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini. Che cosa fai, Costi? Gli domandò Pinocchio avvicinandosi. Ma aspetto la mezzanotte per partire. Dove vai? Lontano, lontano, lontano. E io che son venuto a cercarti a casa tre volte. Che cosa volevi da me? Non sai il grande avvenimento? Non sai la fortuna che mi è toccata? Quale? Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri. Buon protifaccia. Domani, dunque, ti aspetto a colazione a casa mia. Ma se ti dico che parto questa sera? A che ora? Fra poco. E dove vai? Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo. Una vera cucagna. E come si chiama? Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu? Io? No, davvero. Hai torto, Pinocchio. Credilo a me che se non vieni, te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese più salubre per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole. Lì non vi sono maestri. Lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi? Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare? Mmm, fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come dire. È una vita che farei volentieri anch'io. Dunque, vuoi partire con me? Sì o no? Risolviti. No, no, no e poi no. Oramai ho promesso la mia buona fata di diventare un ragazzo per bene. Voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio e buon viaggio. Dove corri con tanta furia? A casa. La mia buona fata vuole che ritorni prima di notte. Aspetta altri due minuti. Faccio troppo tardi. Due minuti soli. E se puoi la fata mi grida? Lasciala gridare, quando avrà gridato ben bene, si chiederà, disse quella birba di lucignolo. Ma come fai? Parti solo in compagnia. Solo? Saremo più di cento ragazzi. Ma il viaggio lo fate a piedi? A mezzanotte passerà di qui il carro che ci deve prendere e condurre fin dentro i confini di quel fortunatissimo paese. Che cosa pagherei che ora fosse mezzanotte? Perché? Per vedervi partire tutti insieme. Rimani qui un altro poco e ci vedrai. No, no, voglio ritornare a casa. Ma aspetta altri due minuti. Ho indugiato anche troppo. La fata starà in pensiero per me. Povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli? Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole? Neanche l'ombra. E nemmeno maestri. Nemmeno uno. E non c'è mai l'obbligo di studiare? Mai, mai, mai. Che bel paese, disse Pinocchio, sentendo venirsi l'acquolina in bocca. Che bel paese, io non ci sono stato mai, ma me lo figuro. Perché non vieni anche tu? È inutile che tu mi tenti. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola. Dunque, addio, salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali se le incontri per la strada. Addio, Lucignolo, fai un buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici. Ciò detto, il burattino fece due passi in atto di andarsene, ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò. Ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane sieno composte di sei giovedì e di una domenica? Sicurissimo! Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col primo di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre? Di certissimo! Che bel paese! Ripetè Pinocchio sputando dalla soverchia consolazione. Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia. Dunque, addio davvero e buon viaggio! Addio! Fra quanto partirete? Fra due ore! Peccato! Se alla partenza mancasse un'ora sola, sarei quasi quasi capace di aspettare. E la fata? Oramai ho fatto tardi, ma tornare a casa un'ora prima, un'ora dopo è lo stesso. Povero Pinocchio! E se la fata ti grida? Pazienza! La lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene, si cheterà. Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di buboli e uno squillo di trombetta, così piccolino e soffocato, che pareva il sibilo di una zanzara. Eccolo! Gridò Lucignolo, rizzandosi in piedi. Chi è? Domandò sottovoce Pinocchio. È il carro che viene a prendermi. Dunque, vuoi venire, sì o no? Ma è proprio vero, domandò il burattino, che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare. Mai, mai, mai! Che bel paese, che bel paese, che bel paese. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie.